Perfetto, allora dopo quel piccolo incidente d'ingresso possiamo partire e volevo dedicare un po' di tempo all'inizio di questa di questa lezione per parlare del laboratorio che si svolgerà tra due giorni, che si svolgerà giovedì. Qualche informazione pratica sperando che funzioni bene al primo colpo, ma molto probabilmente lo aggiusteremo via via, quindi il primo esperimento è quello di giovedì prossimo. Quindi vi ricordo l'orario che prevede le tre squadre di laboratorio per il giovedì dalle ore 10 alle ore 14.30. L'ora delle 13.14.30 si svolge in aula 3, le altre due ore invece si svolgeranno in virtuale con la virtual classroom o se funziona bene come oggi con la con zoom, quindi vedremo sul momento. Come ci organizziamo in termini di come ci dividiamo e come diciamo così si svolge l'attività vera e propria. Allora, questa è la slide che in realtà abbiamo già visto nella prima lezione dove dicevo che il laboratorio è la parte più importante del corso in cui effettivamente si impara a mettere in pratica le cose che facciamo insieme. Chiaramente ciascuno di voi lavorerà sul proprio portatile, quindi in aula chi verrà nella squadra 1. Attenzione alla numerazione delle squadre. La squadra 1 è quella in fondo, è quella che viene in presenza. Quelle 2 e 3 sono invece in virtuale, online. Quindi la squadra 1 ovviamente dovete portare il portatile. Purtroppo dovete avere un computer a testa, ciascuno, perché non è possibile lavorare in due sulla stessa macchina per questioni di distanziamento e di, diciamo così, mani che toccano oggetti di altri, ecco. Ovviamente, diciamo, premuniteli con tutto il software che serve e iniziamo giovedì. Ecco, ciò che ho aggiunto è che questi ultimi due puntini, uno il fatto che il testo è pubblicato sul sito del corso, io l'ho pubblicato ieri sera, di solito cercheremo di prendere un ritmo attraverso il quale pubblicheremo il testo del giovedì successivo il venerdì precedente. Ok? Quindi giovedì facciamo il laboratorio, cercate di concluderlo. Il giorno dopo, chi è già riuscito a far tutto, diciamo così, il giovedì, il giorno dopo comincia già, può vedere, sbirciare, in un certo senso, il testo dell'esercizio della settimana successiva. Il testo dell'esercizio del laboratorio verte sempre sui l'argomento della settimana precedente. Ok? Quindi ciò di cui parleremo in questa settimana, oggi, di cui abbiamo parlato ieri e parleremo oggi, avrà a che fare con il laboratorio del 15 ottobre e così via. Ok? Una novità che invece non avevo ancora la prima lezione era questa, il fatto che noi avremo, sono stati, diciamo, assegnati tre borsisti per ciascun turno di laboratorio. Che cosa sono i borsisti? Sono studenti come voi, già al secondo, al terzo anno, qualcuno magistrale, che prendono una, appunto, una borsa di studio, quindi dei soldi dal Politecnico, c'è un bando due volte all'anno, per il primo e per il secondo semestre, in cui, con una graduatoria, chiaramente, sulla base dei voti, diciamo così, acquisiti, e, diciamo, chi vince questo bando, questa graduatoria, ha la possibilità di svolgere delle ore di supporto alla didattica. Ok? Quindi, studenti, questo lo dico anche per voi, no? Per incentivarvi l'anno prossimo, quelli di voi che hanno voglia di darsi da fare, che sono bravini in qualche materia, si mettono a disposizione per aiutare i studenti più giovani nell'esercitazione, nei laboratori, diciamo così, con queste piccole borse di studio, che sono da 50 ore, 60, 100, ci sono vari tagli, c'è tutto un regolamento che poi potrete guardare. Quindi, in aula, o in aula virtuale, o in aula, diciamo così, reale, saremo sempre quattro persone. Uno, un docente, quindi sarò io, o Juan, o Luisa, e tre borsisti, tre studenti, quindi saremo in quattro per seguire circa un'ottantina di persone per turno, no? Mal che vada. In aula, se non sbaglio, sono 88 posti a sedere, e circa, sulla base del numero, della dimensione del corso, se siamo ben bilanciati, sono tante persone per turno, con quattro assistenti, quel di un assistente ogni 20 persone, mi sembra che dovremmo riuscire a dare, diciamo così, un buon servizio di esistenza. Mi chiede Nicolò, se lui non ha il computer, se vale la pena lo stesso venire, allora, questo giovedì, 8 ottobre, di fatto lavoreremo sui diagrammi di flusso, quindi non è necessario avere il computer, perché alla fine, molto probabilmente, il diagramma di flusso, fai prima a scriverlo in scarta, anche per chi avesse il computer, poi dipende come vi trovate, meglio. Dalla settimana successiva, no, se non ha un computer, forse è meglio lavorare online, probabilmente. Anche perché probabilmente, visto che mi stai scrivendo da casa, hai qualche cosa su cui scrivere, quindi adesso vi faccio vedere le modalità di assistenza. Ok? Suddivisione in squadre, esatto. Suddivisione in squadre. Allora, per definizione la squadra 1, quella delle 13, è composta da tutti coloro che sono prenotati per la presenza in aula. Quindi fa fede la prenotazione, se siete prenotati, arriviamo in aula e vi vediamo lì e siete automaticamente la squadra 1. Quindi vuol dire che ogni settimana la squadra 1 sarà composta da persone diverse. Le squadre 2 e 3 sono invece, come avevamo già messo in un messaggio precedente, se non ricordo neanche più quando, la prima settimana, avevo già fatto un conticino e mi sembrava che una divisione più o meno equa dei cognomi fosse questa. Quindi dal cognomi A al cognomi CAS e dal CAS a Z. Questa divisione, diciamo così, la rivediamo poi la settimana prossima, in funzione di quanti sono venuti questa settimana, e del fatto che stanno arrivando nuovi studenti. perché il venerdì scorso è stata aperta la possibilità a chi aveva seguito il corso l'anno scorso col programma vecchio e non aveva superato, ovviamente, poteva decidere a questo punto se riseguire, se continuare a sostenere il corso col programma vecchio, ma non ci sono più le lezioni, oppure se passare al programma nuovo e quindi inserirsi in questo corso. Quindi mi aspetto che in questi giorni, oggi e domani, di vedere un'immissione di 10-15 studenti nuovi, quindi sono circa 200 in totale che hanno deciso di fare questa operazione, tra l'altro tutti i 20 corsi, e quindi magari dobbiamo riaggiustare questa divisione. Però, diciamo così, è una cosa dinamica che cerchiamo di sistemare in modo da bilanciare, da avere due turni in grosso modo della stessa dimensione. Tutti coloro che non sono prenotati, quindi possono venire o alla squadra 2 o alla squadra 3, secondo che siano nel primo blocco alfabetico, oppure nel secondo blocco alfabetico. Questa divisione funziona bene se voi siete prenotati per le tre lezioni, oppure per nessuna delle tre lezioni, prenotati intendo in aula. Quindi, se siete in aula, farete, se non mi ricordo più in che ordine, forse prima chimica, poi analisi e poi informatica, tutto in fila in aula 3. Va bene. Chi invece è a casa, non ha problemi perché, ad esempio, la lezione che noi faremo qua in aula, diciamo così, mentre i compagni fanno chimica alle ore 3, alle ore 10, qualcuno farà online informatica e viceversa. Quindi le cose non si sovrappongono. Chi è a casa seguirà tutte le lezioni a casa, quindi sarebbe, se non sbaglio, che si chiama la squadra B di analisi, la squadra B di chimica e la squadra 1 o 2 di informatica, scusate, 2 o 3 di informatica. Noi abbiamo questa particolarità che abbiamo diviso in tre squadre per potervi dare un'assistenza migliore e anche perché bisogna intervenire proprio su quello che state facendo voi direttamente. E quindi non si accavallano le cose. Gli unici problemi ci potrebbero essere se qualcuno di voi ha sempre notato alcune lezioni in aula e alcune invece no. E allora lì c'è il rischio che in quella giornata lì non riusciate a seguire una delle lezioni, perché magari dovreste in teoria essere in aula una certa ora e un minuto dopo essere a casa collegato al computer guardandolo online e quindi questa cosa qua potrebbe diventare un pochino logisticamente complicata. Io a questo caso non so cosa farci nel senso che dipende ovviamente dalle varie combinazioni possibili, sono moltissime e quindi dipende dai singoli casi se abitate vicino, se abitate lontano, se riuscite a mettervi in una sala studio del Politecnico per seguire online subito prima o subito dopo l'aula, quello dovete valutarlo poi voi di caso in caso, di volta in volta. Quindi l'orario è stato progettato bene per chi riesce a fare o tutto online o tutto in presenza, per chi fosse misto vediamolo di caso in caso, noi abbiamo l'opportunità di fare informatica in tre slot diversi, quindi spero che in almeno uno dei tre riusciate a infilarvi. Per chi è in queste situazioni strane diciamo così, di pronotazioni sbilanciate, se dovete spostarvi alla squadra due o alla squadra tre per motivi di logistica fatelo pure, tranquillamente, ok? Purché non siate in centro a spostarsi, diciamo così, riusciamo, con il fatto di avere la doppia squadra online, spero di riuscire, diciamo così, a permettere a tutti di frequentare, ok? Quindi questo, indicativamente, questa è la regola, poi le eccezioni ovviamente le facciamo se è necessario, ok? Vediamo poi come va questa settimana, come andrà le prime due settimane, vediamo un po' come si assetterà la situazione. Io la percezione che ho è che sono circa 130, giù di lì, persone che intendono frequentare in aula, no? Facendo la somma delle prenotazioni di questa settimana, più la prossima che sono o più di metà di 40, quindi sono 80 più 40, 45, vuol dire che sono le persone che negli alcoli 15 giorni hanno provato a prenotare, che è circa metà del corso. Adesso bisogna vedere se si riuscirà con questi ritmi, immediatamente riuscirete a frequentare un pochino più di settimane alterne, in certo senso, quindi due settimane su tre probabilmente, se le prenotazioni vanno avanti così, se invece calasse il numero di studenti frequentanti, allora magari si può tendere quasi a frequentare tutti, oppure se il Politecnico desse più capienza alle aule, cioè si riducesse la distanza. Questo lo vedremo, non dico settimana per settimana, ma quasi. Ok, rispondo solo a Michele che dice che alle superiori usavano un programma per fare degli algoritmi, se si trova bene, benissimo, può usarlo, non c'è problema. Non ci formalizziamo sullo strumento, noi puntiamo al contenuto, quindi se ti trova bene e conosci un programma e ti trovi bene a usarlo, puoi tranquillamente usarlo. Se vuoi condividerlo, se è una cosa gratuita, vuoi condividerela con gli altri, magari manderci un link e gli diamo un'occhiata. Ok, come si svolgono le esercitazioni? Allora, squadra 1 è relativamente più facile, nel senso che saremo tutti nella stessa aula, quindi tutti voi, noi quattro assistenti, uno più tre, e voi semplicemente entrate in aula e sul vostro computer oppure su carta e penna per la prima volta lavorate in autonomia sugli esercizi proposti. Quindi il testo già lo sapete, lo potete ricaricare e ricordatevi, ecco, una cosa importante che nessuno vi dice mai, quando vi collegate al wifi, collegatevi a quella rete che si chiama EduROM, ok? E non alla rete che si chiama Polito, quando vedete il Politecnico vedete due reti wifi a cui collegarsi, una si chiama Polito, l'altra si chiama EduROM, in realtà sono la stessa rete wifi, ma con due modalità di accesso diverse, la rete Polito richiede ogni volta che voi vi collegate, quindi ogni volta che entrate al Politecnico di fare login con la vostra utente password, se si scollega e si ricollega dovete rifare login, sapete come funziona bene il login nel portale quindi potete immaginare in alcuni momenti, poi di solito funziona bene, se invece usate la rete che si chiama EduROM ha due vantaggi, uno che inserite la password una volta sola, ovviamente dovete sempre inserire quella ufficiale del Politecnico, dovete inserire la password una volta sola e poi se la ricorda, se la ricorda il cellulare, come quando lo fate su quella vostra, mettete la password e poi il cellulare se la ricorda, mentre su Polito si entra senza password e poi devi fare il login dopo, su EduROM la password la metti al primo accesso e quindi questo è un vantaggio enorme perché a questo punto tutte le volte che arrivi al Politecnico il cellulare o il portatile diciamo computer si collegano da soli. La seconda cosa è che EduROM è un consorzio interuniversitario per cui se vi spostate in altre sedi universitarie che ne so passate vicino all'università di Torino nelle sali studio il campus Luigi in Audi oppure anche in altre città in altre università anche all'estero molto spesso c'è questa rete EduROM e riuscite a entrare automaticamente con le vostre credenziali quindi vi capita di andare all'estero in vacanza passate davanti all'università vedete che il vostro telefono si collega automaticamente a quella rete quindi è quella diciamo così preferibile da usare la velocità della rete del Poli normalmente è molto alta quindi ci sono solo dei punti chiaramente con una rete filtrata quindi non potete fare certi tipi di operazioni ma per la navigazione normale o anche per scaricare dei documenti normalmente è molto veloce ci sono dei punti in cui prende meglio e delle aule in cui prende peggio questo però noi saremo in aula 3 una zona abbastanza centrale quindi dalla velocità non è quasi un problema ok scusate la parentesi ma mi sembrava opportuno quando siete tutti lì che lavorate su PC riuscire a collegarvi ma figurati 90 mega saranno giga allora dove siamo ok allora in aula allora diciamo se avete bisogno mentre lavorate potete richiamare l'attenzione di un assistente facendo qualche gesto facendovi notare e noi cercheremo di seguire grossomodo tutti e cercheremo di aiutarvi nel limite delle disposizioni nel senso che in teoria noi dovremmo stare a due metri di distanza allora se sono domande a cui si può rispondere a voce lo facciamo diciamo così in questo modo e se no cerchiamo di avvicinarsi di più a noi è andata una regola che non possiamo avvicinarci per più di due metri per oltre 15 minuti dopo di che come sono contati questi 15 minuti non si sa se si resettano ad ogni nuovo studente se sono cumulativi o altro cerchiamo di applicare un po' di buon senso cerchiamo di evitare diciamo così situazioni pericolose è chiaro che due metri di distanza vanno bene per parlare si parla un po' voce alta con le mascherine e va bene vanno meno bene per vedere cosa scrivete sul computer perché due metri di distanza cosa tu scrivi sul computer è molto difficile riuscire a leggerlo al limite ti si dice spostati un attimo in là che riesco a guardare il tuo portatile vedo cosa hai scritto noi non possiamo toccare il vostro portatile il vostro computer in funzione della disposizione in aula non sarà neanche facile raggiungere tutti voi perché siete messi a scacchiera quindi alcuni sono più al centro e quindi più difficilmente raggiungibili eventualmente quello che abbiamo chiesto è che si può fare che eventualmente voi potete uscire venire alla cattedra quindi dove c'è più spazio a questo punto anche intorno e poi alla cattedra abbiamo anche disinfettanti per cui si può onestamente ci proveremo ecco vediamo un po' di trovare un meccanismo di funzionamento che non sia troppo complicato la mascherina è fornita dal politecnico ok voi quando entrate al politecnico passate attraverso il termoscanner ok il termoscanner quindi se nessuno vi blocca vuol dire che la temperatura è a posto alla fine del corridoio di ingresso con il termoscanner trovate non è molto visibile guardatelo ma c'è un sanificatore con il gel e a fianco sono dei contenitori delle scatoline con le mascherine quindi quando entrate ne prendete una e quella è la vostra mascherina per la giornata vi viene fornita dal politecnico sono mascherine chirurgiche normale tutto sommato di quelle abbastanza decenti rispetto alle cose che si trovano in giro quindi all'ingresso proprio subito dopo aver fatto l'ingresso dentro dentro il corridoio diciamo così vincolato per gli schermi basterebbe fare una condivisione live senza bisogno di avvicinarsi ok però vuol dire che io devo avere il mio portatelo in mano mi collego live al tuo cioè se siamo in aula sfruttiamo il fatto che siamo lì dopodiché come vi dicevo lo scopriremo meglio creeremo delle delle dinamiche ok per chi invece lavora in ho sbagliato il titolo scusate non è in presenza ma a distanza ok non è in presenza qua ma a distanza se non sbaglio scriviamo online online cosa funziona come facciamo allora aspetta prima di passare a questo i commenti che state dicendo effettivamente sono buone idee nel senso di riuscire a condividere anche sullo schermo del docente il solo che allora la difficoltà è che se condividiamo sullo schermo sulla cattedra generale ne possiamo vedere uno solo per volta mentre noi essendo quattro assistenti riusciamo a seguire quattro studenti per volta però sono tutte idee che chiaramente secondo me sono strumenti che abbiamo nel nostro cassetta degli attrezzi e cercheremo di in funzione di caso in caso di volta in volta di trovare quelli quelli più adeguati quindi sicuramente possiamo avere un nostro computer collegato al proiettore e quindi eventualmente vedere anche se non vorrei diciamo così creare soluzioni situazioni un po' imbarsanti del tipo tu hai scritto una scemenza orrenda e la proiettiamo la vedono tutti non è non è tanto carino soprattutto rischia di 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 frenare qualcuno dal chiedere assistenza se sa che il suo codice viene proiettato a tutti però vediamo proviamo invece online la cosa si è un pochino più strutturata quasi quasi più facile dove noi avremo attiva una virtual classroom oppure una chiamata zoom nell'orario del laboratorio quindi la apriamo all'inizio del laboratorio essenzialmente serve per dire noi ci siamo siamo qui e poi voi ciascuno a casa propria lavora sul proprio computer e lavora sugli esercizi che sono proposti in quella settimana a questo punto in qualunque momento quando avete bisogno abbiamo questo canale laboratorio apposta su slack che è molto simile a quello alla lezione live sono attivi solamente vengono letti solamente quando io ho tolto le notifiche a questi due quindi perché normalmente non ci scambiamo messaggi se non durante la lezione se non durante il laboratorio e quindi fate la domanda sul canale laboratorio allora può darci che sia la domanda richiede una risposta immediata sì punto no hai sbagliato guarda la riga 3 e allora si risolve così se invece la domanda richiede una risposta un pochino più elaborata di fatto uno degli assistenti prende in carico la domanda ok faremo una cosa di questo genere cioè ad esempio questo è il mio slack no facciamo finta che Leone abbia fatto una domanda come abbiamo visto ieri potrebbe allora uno degli assistenti noi siamo in quattro dice ok rispondo io e allora di fatto reagisce così no quando una domanda ha lo spunta verde vuol dire che uno di noi l'ha preso in carico e a questo punto la approfondiamo in thread ok in modo che che ne so sì sarebbe una buona idea scusate scrivo male perché sto scrivendo veloce e quindi noi possiamo chattare in questo thread a questa domanda specifica con questo studente specifico senza disturbare gli altri no perché a questo punto nella chat principale non compagno i messaggi poi una volta risolto il problema va bene ciao grazie arrivederci e torniamo avanti e io a questo punto come assistente cercherò il prossimo messaggio che non ha ancora la spunta verde per andare a rispondere quindi la chat del laboratorio diventerà una sorta di prenotazione con le varie domande e ogni volta che una domanda è presa in carico oppure risolta noi mettiamo la spunta così la la riusciamo a riconoscere dalle altre questo dovrebbe risolvere in buona parte delle domande ci hanno fatto discutere direttamente all'interno sul thread di Slack se necessario possiamo condividere il codice quindi voi a quel punto ci mandate il link a REPL il sempre link al thread di chat diciamo così laterale e quindi noi possiamo guardare se necessario ancora di più per problemi ancora più complicati eventualmente possiamo vederci direttamente in audio o eventualmente anche in video non tanto video per la faccia ma video per la condivisione dello schermo allora a quel punto quello che si può fare è entrare nelle cosiddette stanze private sia Zoom che la Virtual Classroom hanno questa funzionalità di creare delle stanze in cui ci si può spostare quindi c'è la videochiamata generale e poi c'è una serie di stanze noi ne creeremo una per ogni assistente per cui a quel punto uno dice guarda abbiamo bisogno di questa cosa qua non lo risolviamo non riesco a farlo partire fammi vedere cos'è sul computer e allora a questo punto diciamo entriamo nella stanza 2 e all'interno delle stanze si può parlare in audio ci si sente solo tra le persone presenti nella stanza e quindi non generalmente e si può a questo punto si può anche condivere tutti possono condividere lo schermo quindi io posso a questo punto vedere il tuo computer quando siamo nella stanza lo possiamo fare tra virgolette in privato è chiaro che è una cosa che richiede un pochino più di tempo un pochino più di setup e quindi lo facciamo quando è necessario però abbiamo questi tre livelli di quattro livelli di assistenza risposta secca direttamente su Slack thread di discussione su Slack condivisione del codice su REPL entriamo nella stanza e condividiamo il desktop non capisco la domanda di Camilla a che cosa si riferisce ok quindi questa è in teoria come come cercheremo di lavorare giovedì in laboratorio come dicevo che forse nonostante la macchinosità della chat eccetera non abbiamo la difficoltà di avvicinarsi oppure scusate che metto solo giù qua sono i suoi ti la necessità di avvicinarsi oppure gestire le distanze o altro ok vediamo come va e dalla settimana successiva poi eventualmente facciamo dei piccoli aggiustamenti se vedessimo che la cosa dovesse creare dei problemi ok ok